A dieci giorni dalle elezioni politiche 2013, i vertici del popolo della libertà di Brindisi tornano a parlare del prograbba di governo del PDL, tra l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e l'impegno in proposte concrete. L'appello ai brindisini è a riflettere sul fatto che scegliendo il PDL si elege una rappresentanza parlamentare forte con tre persone che andranno a rappresentare Brindisi in Parlamento, scegliendo le liste del centro si eleggono romani catapultati dall'alto che non verranno mai a Brindisi, scegliendo l'antipolitica di Grillo si eleggeranno persone che non conosciamo, di cui non sappiamo nulla che non sono brindisini, per questo il nostro è un appello forte al campanile, il PDL ha fortemente rinnovato le sue liste, ha candidato amministratori che hanno fatto buona politica sul loro territorio, che sono stati eletti, che sono stati portatori di consenso, ha rinnovato profondamente perché ha un messaggio nuovo da dare, che è quello che ha portato ieri il Presidente Berlusconi a Bari, che è stato accolto da una presenza di pugliesi entusiasmante e numerosa come non mai, per questo c'è grande ottimismo, io invito soprattutto i brindisini a riflettere sul fatto che le problematiche della nostra provincia, di Brindisi città, sono talmente tante e talmente impegnative che non avere una rappresentanza brindisina a Roma in Parlamento domani sarebbe un danno agli interessi della nostra comunità, io penso che i brindisini debbano scegliere i brindisini.